musica poi io sono a livello che altri poli non è mai successo ma qualche giorno fa credevo che oh mio dio che smirato che sono oggi che che messi a giocare giocarsi tipo nel porteguare no un matto se non ci avevo fino a mo deve venire non ma ahahah è e che ha detto no sto guardando come ho fatto signor me c'è un altro 31 41 e quando e 3090 da gabri 4 via comunque taglia il suo capetto lo scherzo da notare che appena stato ucciso è l'uccisi gli uccisi tutti io e ne eravanti pure ma non è vero il signor mei ero al pittorio scherzetto povere ehm se l'atletica già da due giorni costata da presto la fredda posto la fede 4 ok 1 5 5 5 ma non ap 5 15 di massimo armare cominciò un prestato dopo così c'è la città della stagione eccola ho ho Timo a fermo Mamà Ho capito ma Avete un medikit ai te meriti no ma le più e c'ho scelto ma grazie ma ciò potremmo anche fare 50 ea bella sì però mi erano che coglioni è ma come cacchio laser non qua sguccia poi forse a costruire le costruzioni si trovi te dietro le tessi buccia poi vai non c'è la manina ma non c'era che parte la safe sì comunque la gente lo serve cacchio faslar così perché mi ha distrutto infatti anche io che era come ero morto tre volte non vado triplo 60 in testa vada cibo toretto normalmente mi distrutto ma l'altro lontano magari non voglio il fuoco però 25 morto l'ultimo poi buona portata tratta qui e chiede te lo so che l'ha ucciso perché l'ho sparato però anche la spesa casa ma lei ha ucciso te perché a me il danno non me l'ho dato e che aveva guarda non lo sai sì infatti dai bora , , . . . . . Grazie per la visione!